Ognuno di noi sperimenta qual è l'indice della propria felicità. Quando ci sentiamo ripieni di qualcosa che c'è nella speranza e riscalda l'animo e viene spontaneo a farne partecipare gli altri. Al contrario, quando siamo tristi, grigi, ci difendiamo, ci chiudiamo e percepiamo tutti come una minaccia. Ecco, la natalità, così come l'accoglienza, che non vanno mai contraposte perché sono due facce della stessa medaglia, ci rivelano quanta felicità c'è nella società. Una comunità felice sviluppa naturalmente i desideri di generare e di integrare, di accogliere, mentre una società infelice si riduce a una somma di individui che cercano di difendere a tutti i costi quello che hanno e tante volte si dimenticano di sorridere. Il governo ha messo i figli, i genitori, le mamme, i papà in cima all'agenda politica. Abbiamo fatto della natalità e della famiglia una priorità assoluta della nostra azione e lo abbiamo fatto banalmente perché vogliamo che l'Italia torni ad avere un futuro, a sperare e a credere in un futuro migliore rispetto a questo presente incerto.